Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuovo appuntamento imperdibile a tema Harry Potter, ma prima di cominciare vi ricordo che su Pampling, utilizzando il mio codice sconto 7Potter, avrete il 20% di sconto extra su tutte le promozioni già attive sul sito. Naturalmente questa maglietta qui la trovate sempre su Pampling, ma ne trovate anche di tantissimi altri fandom, e trovate anche calzini, mascherine certificate, poster e chi più ne ha più ne metta, link in infobox. E vi ricordo anche di andare a guardare la mia vetrina Amazon, il negozio a tema Potteriano e Nerd, dove troverete tutto quello che ho recensito sul canale e quello che arriverà in futuro, scelto da me in collaborazione con Amazon, e potrete acquistare tutti questi prodotti sfogliando un po' la mia vetrina, che trovate anche in questo caso sotto un'infobox. Ma adesso passiamo alle cose serie, perché mi è appena arrivato un libro molto molto interessante, una novità da Panini Books, e ringrazio tantissimo Panini per avermi inviato questa copia, che adesso andremo a sfogliare assieme. Di cosa si tratta? Si tratta di Harry Potter, la magia del knitting. Che cos'è il knitting? È il lavoro a maglia. E ragazzi, questo volume è un volume di tutto rispetto, perché è un bellissimo cartonato, rifinito davvero benissimo, già solo tenerlo tra le mani è una vera gioia, e poi è anche bello sostanzioso, contiene un bel po' di schemi. Perché si tratta di schemi ufficiali, per l'esattezza 28, di repliche da aggiungere alle nostre collezioni di Harry Potter, quindi repliche ufficiali di oggetti che abbiamo visto nei film, e poi anche delle repliche invece di magari animali fantastici, come può essere questa Edwige in copertina, o questo Pixie qui in alto. Io purtroppo mi mangio le mani, perché non so lavorare a maglia, si tratta di schemi da lavorare a maglia, ci sono dentro le istruzioni per creare ognuno di questi oggetti, e naturalmente ragazzi, chi di voi fosse capace di fare queste cose, mi contatti perché sarei super felice di averne alcuni, ne ho già visti un paio che sono davvero molto molto belli, e mi sa che altrimenti mi toccherà schiavizzare mia madre e mia zia, perché loro dovrebbero essere in grado di farli, e quindi vi farò sapere in futuro. Ma adesso, bando alle ciance ragazzi, direi di cambiare inquadratura, e di andare subito a sfogliare assieme questo bel ragazzone. Ed eccoci qui, finalmente è arrivato il momento di sfogliarlo assieme, e cominciamo dalla copertina. Come vi dicevo, abbiamo un piccolo Pixie qui in alto a destra, una civetta delle nevi, abbiamo Edvige, e poi possiamo vedere alcuni articoli ispirati alla saga, come questi guanti, abbiamo queste sciarpe, una dedicata al binario 9 ¾, e una al boccino e al cappello parlante, poi calzini di corvo nero, e poi qui abbiamo anche delle sciarpe, una per ogni casa. Troviamo tutto questo dentro la valigetta di Newt, e abbiamo anche la bacchetta di Sambuco. Molto molto bella la copertina del libro, ma adesso cominciamo a sfogliarlo. Qui, che carino, troviamo questo, che è una giostrina per i bambini da mettere nella culla, dove abbiamo il leone, il tasso, il corvo nero, il serpente, e al centro il cappello parlante. Davvero un'idea molto molto bella per ogni mamma e papà potteriano, quindi super super bella. Ed ecco che andiamo a scoprire quali sono i vari reparti che andremo a trovare all'interno, le varie categorie. Abbiamo quella dedicata alle creature fantastiche, poi abbiamo il guardaroba magico con le repliche dei film, l'abbigliamento incantato, dove troviamo delle cose ispirate ai film, e poi decorazioni incantevoli per la casa. Quindi direi di non perdere molto tempo, qui abbiamo l'introduzione, e qui subito le creature fantastiche. Ragazzi, quanto è bello questo pixie, è super super bello, mi piacerebbe un sacco averlo nella mia collezione, chissà prima o poi, ma è davvero molto molto bello. Anche le foto sono molto molto carine, e poi abbiamo una descrizione, ad esempio in questo caso, dei folletti della Cornovaglia, poi una scheda tecnica con la misura del prodotto, qui ci dice che è circa 30 cm alto, è l'apertura alare di 23 cm, e poi ci dice quali tipi di filo sono necessari, quali ferri, quali articoli, eccetera, eccetera. Sicuramente per chi è pratico del lavorare a maglia, sono tutte cose che già, diciamo, mastica per bene, per me invece purtroppo è ostrogoto. E poi ecco che qui all'interno abbiamo i vari schemi, le varie istruzioni per realizzare corpo e testa, zampe, braccia, ali, orecchie, eccetera, eccetera. È tutto realizzato passo passo, ma mi piace davvero tantissimo la cura e i dettagli, le foto, le immagini, che hanno utilizzato per ogni prodotto. Abbiamo anche Fuffi, il cane a tre teste, anche questo molto molto bello. Questo ad esempio, secondo me, potrebbe essere utilizzato come fermaporta. Basterebbe riempirlo all'interno magari con della sabbia, con qualcosa di pesante, e lo vedrei benissimo come fermaporta, che poi è quello che fa all'interno del film. Sarebbe molto molto interessante. Mi piace che abbiano messo foto da diverse angolazioni, naturalmente per aiutare chi deve realizzare il pupazzo, il prodotto, quindi mi sembra ben strutturato. Edvige, edvige da quando l'ho vista nella copertina, mi è piaciuta tantissimo. È fatta davvero molto molto bene, e mi piacerebbe, mi piacerebbe tanto avere anche questa in collezione. E anche il retro, devo dire che è molto molto bello. Davvero super super carino. Poi abbiamo invece il guardaroba magico, e ovviamente non può mancare la sciarpa di Grifondoro, e poi anche il maglione di Ron. Anche questo mi piacerebbe tantissimo. Abbiamo quello anche di Henry con la variante. Guardate quanto è bello questo maglione. E poi abbiamo tutte le varie alternative, tutte le lettere che potrete utilizzare sul maglione. E poi vediamo ancora, qui abbiamo le sciarpe delle quattro case. Anche queste molto molto belle. Abbiamo gli schemi di colore. E poi il cardigan. Guardate quanto è bello questo cardigan, con i colori delle case di Hogwarts. In questo caso è quello di Grifondoro, ma basta sostituire naturalmente i bordini con quelli delle altre case. Guardate quanto sono semplici, ma molto molto belli. E poi vediamo ancora, qui abbiamo ad esempio la sciarpa gatto della professoressa Umbridge. Questa un po' inquietante, ma molto molto carina. E ripeto, mi piacciono un sacco le foto che hanno utilizzato per realizzare questi prodotti. Molto molto in tema Umbridge. Questo scaldacollo. E poi abbigliamento incantato. Qui abbiamo cose che magari non abbiamo visto nei film, però vanno a richiamare la saga. Qui ad esempio questo bel maglione ha tema giratempo. Molto molto bello. E naturalmente chi è capace a farlo tanto di cappello. Ad esempio, anche questo è altrettanto bello. Abbiamo il gatto, il cappello parlante, il boccino, la coppa del torneo tre maghi, le saette, il calderone. Un maglione super natalizio indicato per questo periodo. È davvero super super bello. E poi vediamo cosa abbiamo ancora. Oltre a tutti gli schemi, qui abbiamo lo scaldacollo specchio delle brame. È così che viene chiamato. Che ha questo intreccio che va a riprendere questo qui della cornice dello specchio delle brame. Quindi si va a copiare questa trama qui. E poi ancora abbiamo i calzettoni, i guanti, il boccino d'oro. Con tutti i piccoli boccini messi in fila. Molto molto carino. E poi abbiamo ancora questa sciarpa dei trasporti magici, dove abbiamo la scopa, il binario 9 e 3 quarti, il nottetempo. Hanno avuto delle idee davvero molto molto carine. E poi cosa abbiamo ancora? Wow, questo molto bello, i guanti senza dita del club dei duellanti. Dove si va a riprendere la passerella del club dei duellanti. Quella dove si sfidano Harry e Draco. Molto molto bella, con tutte le varie fasi lunari sulle braccia. Davvero molto molto carini. E poi cosa abbiamo ancora? I calzettoni da Quidditch. Mostra i colori della tua casa. Naturalmente anche in questo caso varianti per ogni casa di Hogwarts. E poi guanti Expetto Patronum. Con qui su un guanto Expetto, col cervo. E poi abbiamo Patronum qui con questi alberi. Molto molto belli anche questi. Che poi sarebbero anche delle ottime idee regalo. Quindi se siete capaci e siete anche abbastanza rapidi. Potete realizzare queste cose da regalare ai vostri amici e parenti per Natale. Qui abbiamo il Pullover Fierobecco. Che va a riprendere i colori di Fierobecco. Anche questo molto molto carino. E poi vediamo cosa abbiamo ancora in questo bellissimo libro. Abbiamo anche la cappa dell'Accademia di Bugaton. Eccola qui. In questo caso in lana. Differente da quella che abbiamo visto nei film. Che sembra essere in seta. Mentre questa qui un po' più calda per l'inverno. Quindi anche questa qui molto carina. Abbiamo il berretto della Camera dei Segreti. Qui abbiamo l'ingresso della porta. Con tutti i vari serpenti che vanno a bloccare l'ingresso. E il retro invece è così. Molto molto bello anche questo. Lo indosserei molto volentieri. Abbiamo gli schemi. Questo è il maglione che abbiamo visto all'inizio del capitolo. E poi abbiamo ancora la sciarpa. Effetto ombra del marchio nero. Ecco qui. Se riuscite a vedere. Sembra esserci il marchio nero nascosto all'interno della sciarpa. Molto bello questo effetto. Che sicuramente sarà dato da una sorta di intreccio particolare. Che io assolutamente sconosco. Ma molto molto bello. Uh eccolo qui. Forse addirittura è all'interno della sciarpa probabilmente. Quindi bisogna girarla al contrario. Ma è davvero molto molto bella. E addirittura abbiamo qui la formula che viene invocata a smordere. Per far apparire il marchio nero. Questa sciarpa fighissima. Davvero fighissima. E ancora arti oscure. Abbiamo il girocollo Nagini. Abbiamo questa testa di serpente. Con questo corpo che poi passa all'interno delle fauci. Molto molto interessante. Qui si vede meglio di questo bel verde scuro e verde chiaro. E poi abbiamo ancora i guanti con gli spettrocoli. Ma questi sono una figata. Perché le dita vanno a simulare la forma degli spettrocoli. Davvero una genialata. Questi vincono su tutto a mani basse secondo me. E poi abbiamo ancora lo scialle decorato con le perline dei doni della morte. Andiamo a vedere più nel dettaglio. Ecco qui abbiamo il simbolo dei doni della morte. Il triangolo con la bacchetta al centro. E la pietra della resurrezione. Anche questo molto molto bello. E poi le decorazioni. Vediamo quali sono. Abbiamo i copritazza delle case di Hogwarts. E poi ancora la giostrina. La decorazione sospesa. Cappello parlante. Questa bellissima. Avrei tanto potuto averla io quando ero piccolo. E poi abbiamo queste. Che sono le lavette. Dei sette Horcrux. Quindi abbiamo ogni lavetta. Con il suo Horcrux. Qui abbiamo il diadema di Corbonero. Ad esempio. Ma abbiamo anche il serpente. L'anello. Quello che raffigura Harry. Poi abbiamo il medaglione. La coppa. E il diario. Anche questi molto carini. E poi abbiamo ancora la coperta dell'Ordine della Fenice. Eccola qui. Eccola qui. Abbiamo al centro proprio la dicitura Ordine della Fenice. Anche questa molto bella in tema Molly Weasley. E poi abbiamo finito. Ecco qui che troviamo i ringraziamenti. L'integrazione. L'abbrevazione. I termini. E abbiamo finito il nostro volume. Che si conclude con questa bella sedia. Con un cesto di lana. Ed eccoci di nuovo qui. Ragazzi. Con il nostro librone tra le mani. Ci sono davvero cose molto molto interessanti all'interno. Ci sono delle repliche che vorrei tantissimo nella mia collezione. Come ad esempio i maglioni di Ron e Harry. I maglioni natalizi. Ne indosserei uno subitissimo questo Natale. E poi invece se ci riferiamo magari agli animali. Mi piacerebbe tantissimo Edwige. Perché è fatta molto molto bene. Mi piace tanto. E devo dire che ho visto in giro peluche ufficiali sotto licenza. Che sono davvero orribili. Mentre invece questo schema qui a saperlo fare. Ragazzi è qualcosa di pazzesco. Ma sono anche bellissime le sciarpe. Sono bellissimi i guanti. C'è davvero tanta tanta roba molto molto interessante. E mi piace che Panini abbia sfornato questo bel volume. E che sia così ben rifinito. Che non sia un semplice volume di schemi. Un quadernino. Ma è proprio un libro da tenere in collezione. Un libro ufficiale Wizarding World. E ci è stata messa davvero tanta cura. E poi all'interno non troviamo solo gli schemi come abbiamo visto. Ma anche delle curiosità sui costumi. Sugli oggetti di scena. Quindi c'è anche quel qualcosa in più. Che lo rende un prodotto assolutamente degno. Di stare nelle nostre librerie e nella nostra collezione. Ovviamente ragazzi trovate il link a questo volume. Per chi magari volesse regalarlo per Natale a qualcuno. A qualcuno di appassionato di lavori a maglia. Credo che sarebbe davvero molto molto felice di riceverlo. Se si è potteriani e capace di lavorare a maglia. Questo è il regalo dell'anno ragazzi. Davvero super super bello e super consigliato. Io come vi dicevo prima dovrò schiavizzare qualcuno che me li faccia. Perché li pretendo, li voglio. Devo assolutamente avere alcune di queste cose. Fatemi sapere sotto nei commenti qual è il vostro oggetto preferito all'interno di questo volume. Qual è lo schema che vi piacerebbe realizzare o che qualcuno realizzasse per voi. Fatemelo sapere. Fatemi sapere anche se siete capaci a lavorare a maglia queste cose. Perché sono davvero super super invidioso. Io ringrazio ancora tantissimo Panini per avermi inviato questa copia. Io volevo prenderla, volevo mostrarvela già da qualche settimana. Ed è caduta a fagiolo ragazzi. Quindi grazie ancora mille a Panini per avermene inviato una copia. E ragazzi come vi dicevo mi raccomando in infobox. E detto questo io vi do appuntamento a prestissimo con un acquisto ragazzi che ho fatto durante il Black Friday su EMP. Un acquisto di una cosa che costava davvero molto e che ho preso per praticamente due spicci. Ma non voglio dirvi di più. Lo vedrete nel prossimo video. Quindi mi raccomando attivate la campanella. Mi raccomando iscrivetevi al canale qualora non foste ancora iscritti. Consigliate il canale ai vostri amici. Commentate. Ragazzi seguitemi su Instagram Antonio.seria. Detto questo noi ci vediamo prestissimo con tanti altri video. Ciao! 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 Grazie a tutti.